Noi abbiamo voluto organizzare l'evento di oggi a breve distanza temporale dalla giornata mondiale della proprietà intellettuale e celebrato come sapete ogni anno su impulso dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Ci è sembrata un'occasione utile per sottolineare come la protezione e la promozione all'estero del frutto degli investimenti in creatività e innovazione mediante diritti di proprietà intellettuale sia per le aziende italiane, a prescindere dalla loro dimensione, un fattore strategico per la competitività delle imprese e l'internazionalizzazione del sistema Italia. La Farnesina è molto attiva per la promozione del Made in Italy, oggi vogliamo fare un salto in avanti anche per la tutela della proprietà intellettuale che vale il 44% del PIL italiano e per l'export ancora di più. Quindi un salto in avanti nella nostra proiezione internazionale con il coinvolgimento della nostra struttura, della nostra rete diplomatica. La tutela della proprietà intellettuale è fondamentale, particolarmente per un paese come l'Italia che fonda moltissima della sua economia e della sua crescita sulle opere d'ingegno. L'Italia nel 2017 è stato il decimo paese del mondo in termini di domande e di brevetti ed è stato quello che in Europa è cresciuto di più. Grazie a tutti! Grazie a tutti!